Ma che belle la nostra Claudia Dionigi e la Mavi in spiaggia tutte colorate Ci sono anche i nonni, anche Lorenzo Riccardi, sono a Riccione, adesso se ne vanno pure al supermercato Vi lascio così, un grande bacio, ciao Amore, Mavi, Maria Vittoria, e pensare che una volta qua mettevo le uova e adesso invece ti sei parcheggiata tu, amore Ah, dimenticavo, chiudiamo con le foto del giorno della Mavi insieme a Lorenzo Riccardi, papà di una simpatia sempre unico lui, eccole qua, ciao Grazie